Buongiorno e benvenuti per la segna stampa di oggi 10 dicembre del 2019. Intanto il tema fondamentale della giornata è, secondo me, l'intervista fatta dal Premier Conte al Corriere della Sera. Beh, devo dire che è una di quelle cose che uno direbbe, vabbè ma ti viene veramente da ridere, non è possibile che il Presidente del Consiglio dica una cosa di questo tipo. Abbiamo vinto lo sprint dei 100 metri, cioè sarebbero una metafora per raccontare i primi 100 giorni di questo governo. Abbiamo vinto lo sprint dei 100 metri. Ma ragazzi, ma questo dove vive? Ma dove vive? Io capisco che uno non possa dire, ragazzi siamo nella merda fino al collo, però francamente dire abbiamo vinto lo sprint dei 100 metri nella situazione in cui ci troviamo oggi con l'Italia paralizzata dal punto di vista economico, il governo paralizzato dal punto di vista politico e dal punto di vista istituzionale riusciamo a fare una riforma che sia una, se non la prescrizione che è una specie di disaltro. Capisco che forse questo Conte non lo considera tale. Beh, insomma dire che abbiamo vinto i 100 metri mi sembra una roba per cui devi aver fumato qualche cosa di pesantissimo, pesantissimo. Nel frattempo però dice ora parte la manovra delle riforme strutturali. Anche no! Fermatevi, vi prego, perché già l'unica riforma strutturale che qua vedo, che quella votata insieme alla Lega della prescrizione non è che è un disastro, è più che un disastro, è una gigantesca, incredibile ipoteca nei confronti di un paese che sarà sempre meno civile. Non sarò appeso, dice Conte. Insomma, mi sembra anche questa un'altra di quelle follie. A me mi sembra che invece lui sia non appeso, sia aggrappato. Non perché ci sia nulla di male a essere aggrappati a un bel ruolo come quello di fare il Presidente del Consiglio. Tutti vorrebbero forse fare il Presidente del Consiglio. Ma insomma dire che lui non è appeso, l'uomo che aveva detto che non avrebbe cambiato la maggioranza, che non era l'uomo per tutte le stagioni, ed è la stagione della Lega, ed è la stagione del PD, ed è la stagione del MES, ed è la stagione del sovranismo. Beh, insomma, veramente mi sembra una battuta. Riguardo alla prescrizione vi segnalo un pezzo, qua dicono qualcuno voce, ma in realtà mi sembra che ci sia l'audio per tutti gli altri, un pezzo di Mattia Feltri oggi sulla stampa, perché Fico, Presidente della Camera, dice che la prescrizione, così come prevista oggi, favorisce i ricchi. Toc toc! Gli fa Mattia Feltri al Presidente della Camera. Ma che sta a dire? Ma che sta a dire? Su 129.000 processi prescritti nel 2017, sentite bene la cifra, 129.000 processi prescritti nel 2017, ce ne sono la bellezza di, ve lo dico subito, quasi 100.000 processi prescritti prima di andare in tribunale. Cioè, sono prescritti, sapete perché sono prescritti questi processi? Perché finiscono là nelle scartoffie dei magistrati per l'obbligatorietà dell'accezione penale? Perché ne hanno talmente tanti che poi in realtà le scartoffie che vengono tirate sopra sono o quelle di gravissima, diciamo, pericolosità sociale, o quelli per cui c'è un interesse molto specifico dell'accusa di andare fino in fondo. I processi si prescrivono molto prima dell'intervento degli avvocati, si prescrivono nei cassetti dei magistrati. Quindi questa è la realtà, 100.000 processi prescritti prima di arrivare in tribunale, che peraltro su questi processi non cambierebbe molto perché verrebbero prescritti anche con la nuova norma, ma il principio di FICO per il quale i processi si prescrivono soltanto per i ricchi è una minchiata. Ricorda poi Mattia Feltri, già che c'è, anche se la questione ovviamente non c'entra nulla con la prescrizione, e che in questo paese piuttosto il problema è che in carcere finisce un innocente che viene peraltro risarcito da noi contribuenti, non dai magistrati che lo mettono in carcere, ma da noi contribuenti viene risarcito un italiano o straniero ogni 8 ore per ingiusta detenzione. Quindi avete capito la procedura? Quelli lo mettono in galera, poi si sbagliano, poi gli dobbiamo dare il risarcimento, glielo danno i magistrati, ne pagano le conseguenze i magistrati? No, le paga il contribuente italiano che gli paga risarcimento straordinario. Altra questione fondamentale di giornata è il monito di Mattarella, perché dice, come scrive benissimo, Repubblica, evasori, io vi accuso, lo jacuzzi di Mattarella, peraltro non nuovo perché su questa cosa Mattarella ha parlato tante altre volte, in realtà dice che senza l'evasione le pensioni e gli stipendi sarebbero più alti e ci sarebbe anche un abbassamento delle imposte. In realtà più tardi sul sito, lo spiego io, lo spiegherà anche Gian Cristiano Desiderio, sul sito nicolaporro.it vedrete che questa è una sciocchezza, non è vero! Si abbassano le imposte, quando abbiamo avuto introiti da lotta all'evasione, per esempio è successo nel 2018, ma succede anche nel 2019, che abbiamo recuperato circa 20 miliardi dall'evasione, quanto è ritornato nella riduzione fiscale dei italiani? Zero! Se si lotta all'evasione si aumentano i programmi di spesa, questo lo capiscono tutti, tranne che quelli che schivono oggi, praticamente lodando l'uscita del Presidente della Repubblica. Altre due cose, Travaglio riceve una lettera dell'avvocato della Casellati, perché Travaglio continua a insultare in tutte le maniere la Casellati, l'insulto è legittimo, ma qualche volta dice la Casellati, il Presidente del Senato ci sono gli estremi di una querela, gli manda una letterina, come non c'è audio, come non c'è audio! Tutti continuano a dire che non c'è audio, adesso provo a togliere questo microfono, ditemi se mi sentite anche così, ma io penso che l'audio ci sia. Va bene, comunque, Casellati, avvocato, manda una lettera a Travaglio e ai suoi giornalisti e che cosa succede? Che Travaglio, piagnucola oggi sul giornale, mi stai minacciando! Ma come? Ma se tu credi nella giustizia, credi nei magistrati, credi nel potere del codice di procedura penale, va bene? Se tu credi a tutte queste robe qua, io mi chiedo e vi chiedo, ma per quale motivo non ottenere giustizia da un magistrato che valuterà se è vero o non è vero che la Casellati si senti diffamata? Io devo dire la verità che penso che i magistrati faranno il loro compito, così come gli emendamenti oggi alla Camera e al Senato! Lo ricorda bene oggi il giornale che addirittura ci apre, perché cosa stanno pensando alcuni parlamentari del PD e di Leu? a stanziare 400.000 euro vostri, che magari arrivano dall'evasione fiscale, 400.000 euro sapete per che cosa? Per celebrare i 100 anni del Partito Comunista. I 100 anni del Partito Comunista sono celebrati con i vostri soldi, se li facessero con i soldi loro! Ma perché devono rompere i coglioni a tutti quanti i risparmiatori e contribuenti italiani per pagare le celebrazioni di un partito che, come nota oggi la verità di Belpietro, secondo l'Unione Europea, ha lo stesso valore politico del fascismo e del nazismo! Questo è quello che avviene. Vanzina oggi ci racconta per quale motivo lui, che non si indigna mai, si indigna su questa vicenda di Checco Zalone, perché tutti sono arrabbiati sulla questione dei suoi trailers, cioè che li ho fatti vedere anche ieri sera a Quarta Repubblica, non si riesce a capire perché questa ondata mostruosa di politicamente corretto oggi sia così accettabile. Gli ultimi due notizie di giornata sono sulla manovra, sulle 24 ore e altri giornali vi dicono una cosa stupenda. Io non ci posso credere, io non ci credevo. È vero che hanno ridotto la plastic tax e l'hanno rimandata a giugno, l'hanno ridotta a 0,50 per chilo, contro un euro per chilo, che avrebbe distrutto completamente il settore. Ecco, comunque lo incrina. Ma la cosa drammatica? Che cosa si sono inventati per fare cassa? Dai, facciamo tra di voi. Toc toc! Secondo voi, un politico, cosa si inventa per fare cassa? Ditemelo, vedo Camillo, vedo Sabrina, vedo tanti altri, Anna. Quando un politico è alla ricerca di soldi, che cosa si mette ad aumentare come imposta? Ve lo dico io, la benzina. Veramente, benzina! Aumentano le accise sulla benzina, io non ci posso credere. Vi ripeto la frase di Conte oggi sul Corriere della Sera. Abbiamo vinto lo sprint dei 100 metri e grazie con tutta sta benza che ci ha messo dentro. Certo, poi a pagarla saremo noi. Le sardine. Il giornale di Claudio Cerasa è pazzo delle sardine. Doppio pezzo oggi a favore delle sardine. Quello di Cerasa e quello di Ferrara. Cerasa dice, dobbiamo chiederci cosa possiamo fare noi per loro, non loro per noi, perché questi non dicono i vaffa, non sventolano i cappi, non urlano, tutte cose abbastanza vere. Non inveiscono. Beh, insomma, non attaccano i partiti. E no, Claudio, i partiti uno li attacca. E caro Claudio, i partiti li attaccano. I sovranisti Meloni e Salvini sono più che attaccati dalle sardine. Non giocano a fare i leader. Eh, non lo so se questi non giocano a fare i leader. Lo vedremo. Secondo me questi fra un anno non sapremo neanche chi siano. Forse se lo ricorderà Cerasa e Ferrara, che oggi dice che belle le nuove piazze. Il punto fondamentale però di queste sardine lo coglie. È fantastico, geniale, come sempre. Vittorio Feltri. Vittorio Feltri, che oggi sul libro dice, Ragazzi, ma se questi non si candidano, ma che cacchio c'è a stare da fare là? Cioè, voglio dire, che senso ha il moto di piazza se poi non va a finire da qualche parte? Questa è la tesi di Feltri. Invece, noi in questa grandissima bolla di ipocrisia amiamo queste sardine che sono contro la destra, sono filo PD, chiaramente, ma che alla fine non fanno quel passo per rompere l'ipocrisia di essere di sinistra o di destra o di centro. Filippo Rossi, la Pascale! Oggi c'è il giornale che fa vedere le foto di tutti quelli che l'appoggiano da Vauro a Saviano, a Prodi, a Gadlerner. Le dicono che questo sarebbe il movimento che piace alla destra. Insomma, con le sardine io direi che finisco la zuppa di oggi. Vi ringrazio per i numerosissimi che ci sono stati ieri sera e vi invito a leggere sul sito nicolaporro.it. Tra poco lo vedrete in onda il pezzo di contestazione, garbata, spero, alle analisi di Mattarella sull'evasione fiscale, mia e di Gian Cristiano Desiderio. Ma non dovevano togliere, Daniela, le accise. Questo l'aveva detto Salvini, ma anche lui le ha tolte. Ciao!